E' troppo bello, provateci a vedere. Pare sano. Oh, che pensi a te? Ciao! Ciao! E' troppo bello qui. Ah! Bir, che ci facciamo? Sono negroni. No, nessuno negroni. E dammi la soddisfazione, perché mi piace la sangria. Non mi piace la sangria. Ciao, ragazzi! Dos negroni. Sì, ma che dici? Cioè, vogliamo scommettare 10 mila euro in una coppa di fumacchè? Cioè, vogliamo mettere i tassi e vendermi le uno. Chi lo ha a prendere i pacchè? Ma quando? E' solo perché è tedesca vince. E' metodico il fumacchè. E' una cosa che è metodica. E' una coppa di fumacchè in italiano. C'è da stare in italiano. Sì! 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 Quando tieni l'occhio allenato da una vita passata a pararti il culo da chiunque, certe facce, le noti subito. Ola! Sì! Come stas? Eh? Pure sti carabinieri freschi di concorso. In vacanza pagata alla ricerca del latitante. Ma tanto l'oro qualcun altro. Era solo questione di tempo. del tutto. L'oro devo fare. Sì! 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 Si! No, no, no. No, no, no. No, no, no.